Cubi, cubi ovunque, ora è la fine di questa season, questa casa sarà un cubo unico. Appena un attimo fa, prima di cominciare il video, Fortnite mi ha fatto scaricare un mini update e non so se è una mia impressione, ma mi sembra che nel frattempo i cubi siano cresciuti un altro po'. Tipo questo qui è diventato super ciccione. Oh sì, qua qualcosa sta capitando e i mutamenti sono continui. L'isola volante sta ripercorrendo in qualche modo il percorso delle rune con un ordine diverso, un ordine per fortuna più pratico e su ogni runa che va solleva letteralmente la runa dal terreno ed è come se vada ad assorbire l'energia dai meandri della terra. E come vedete l'isola volante si lascia dietro di sé questi campi di energia, i cubetti che sono ritornati. Come vedete è la runa che viene rincastrata nel buco che aveva creato e che inizia a gettare in aria dei fasci di energia. Tutto ciò ragazzi sta avvenendo molto velocemente e sarà probabilmente questione di forse due settimane, qualcosa di questo tipo prima di vedere che cosa andrà a fare una volta toccate tutte le rune. Sarà sicuramente molto interessante perché come sappiamo l'evento di fine season 5 del cubo in Loot Lake era solo un inizio, un evento iniziale di quello che sarebbe stato il percorso del cubo. Ma oggi sono qui con voi per parlare di tutt'altro perché come al solito Fortnite ci ha insegnato che ci sono degli eventi che catalizzano l'attenzione del giocatore nel mentre altrove avviene altro ed effettivamente succedono cose strane altrove, in particolar modo a Bosco Blaterante. Per questo motivo ho deciso di dedicare l'episodio di oggi a un'analisi approfondita di Bosco Blaterante. Per quale motivo ragazzi? Nella season abbiamo il tema mostri che in qualche modo sembra non essere legato a nulla riguardo alla storia perché c'è Calamity che sembra una sorta di... Sono morto? Calamity sembra una sorta di Van Helsing al femminile. Ci sono un sacco di skin mostruose, skin in costume per Halloween e poi soprattutto abbiamo a fine season il licantropo. Che più che un licantropo sembra effettivamente il lupo di Cappuccetto Rosso visto che abbiamo anche la skin di Cappuccetto Rosso. Ma la cosa interessante è la skin segreta, la skin che sbloccheremo a settimana 7 perché questa volta si parla di un cacciatore. E come tutti sapete la fiaba di Cappuccetto Rosso avviene in un bosco dove ci sono delle casette, la casetta della nonna, il cacciatore, eccetera. Quale miglior posto di Bosco Blaterante? Mi sono domandato se questa volta la season avesse un tema che non importasse da nessuna parte in termini di lore. Eppure, se fosse questo cacciatore, non un cacciatore qualsiasi ma un cacciatore che nasconde un segreto o che avrà comunque un ruolo più marcato nella storia. Questo lo scopriremo solo più avanti. Ma ragazzi, è arrivato il momento di cercare tutti i bunker di Bosco Blaterante. Infatti, come state vedendo, sotto ogni casa, da quello che ho capito, c'è un bunker. Inizialmente si parlava del bunker che abbiamo scovato al centro, quasi per caso in realtà. E poi abbiamo subito scoperto che c'era più di un bunker. Si parlava di tre bunker a Bosco Blaterante. E in realtà, ragazzi, i bunker sono molti di più. Noi abbiamo esattamente quattro casette. Ognuna di queste casette nasconde un bunker nella sua cantina. L'entrata del bunker segreto di Bosco Blaterante è esattamente questo modello qui. Ve lo ripeto un'altra volta. È un modello riciclato che si trova ovunque. La cosa interessante è che dietro agli armadi o passaggi nascosti ci sono cose di questo tipo. Quindi queste stanze, che però non portano da nessuna parte. Guardate, dietro qua non c'è nulla, ragazzi. Quindi iniziamo a spostarci alla terza casa. E poi terza casa. A una delle case. Dico terza perché è la terza nell'ordine del nostro giro di oggi. Abbiamo, come sempre, questa cantina dove la discesa è molto evidente, però spacchi l'armadio segreto e c'è un laboratorio segreto. Che poi in realtà tanto segreto non è perché anche qui si spunta in cantina. Cioè, quindi è abbastanza rintracciabile, diciamo. Però quello fa parte dell'ovvietà del gioco. E poi ci sono questi tunnel che rivediamo nel bunker centrale ma che non portano da nessuna parte. E poi abbiamo il bunker, quello vero e proprio, quello principale, che ancora non si apre. Non c'è modo di entrare da che hanno risolto i bug. Non c'entri neanche con la pietra ombra, con le strutture nuove, non puoi buggarle in nessun modo. Ma vi faccio notare che se guardiamo un po' dentro, vedete lì dove sto puntando? Ci sono dei sassi e c'è della terra. Quella cosa è nuova, non c'era prima. Quindi in qualche modo continuano ad aggiornare l'interno, come se mutasse. E c'è una sorta di massa di terra, quasi come se avessero fatto degli scavi. E guarda caso, degli scavi sotto il bosco li stanno facendo davvero. È un'esca, è un troll pazzesco, come dire. Guardate, siamo pieni di bunker ma quello no. Secondo me sì, in realtà. È tipo, ormai è una meme e basta. E ci dovrebbe mancare solamente questa casa, dove pure in questo caso, Noi andiamo nella cantina, è tutto normale, è tutto ok. Ma la cantina nasconde un passaggio segreto. Tra l'altro con questa inquietantissima scrivanita. E ovviamente ragazzi, anche qua, al di là di questa porticina, che collega tutto per qualche strana ragione alla mansarda della casa. Ah, tra l'altro questo è il più interessante, perché addirittura c'è un passaggio sotto il letto per raggiungere il bunker. Comunque, anche questo bunker non porta da nessuna parte, ragazzi. Ora, i vari bunker non sono sempre stati qui, li hanno inseriti in questa season. È lecito pensare che abbiano scavato questi bunker, a un certo punto, abbiano costruito sopra le case per nascondere i vari ingressi, ma magari potrebbero non essere ancora finiti. Il bunker poi principale, quello evidente, è al posto del labirinto. Il labirinto ha delle fottute telecamere sugli alberi. Come funzionano queste telecamere sugli alberi? Dove stanno i fili? Poveri alberi. Poi, insomma, la zona ora è piena di filo spinato, cose. Insomma, già lo sapete. Entrando qui dentro, si accede a quello che è il bunker segreto, ma mica troppo segreto. Lo abbiamo sgamato già nel primo video di reaction alla mappa. E questo è un bunker fottutamente enorme, ragazzi. Un bunker molto strano, perché è come se venisse accatastato qui dentro ogni genere di oggetto. Per esempio, qui abbiamo un container. Questo container potrebbe venire esattamente dai magazzini. Oltretutto, qui dentro abbiamo anche un quadro dei vecchi magazzini. Chiunque ci sia qui dentro, in qualche modo è legato a quella fazione all'interno di Fortnite che sta studiando gli eventi e sta cercando di capire che diamine succede. Non peraltro, dietro questa camera di controllo, si sta studiando uno dei rift, ragazzi. Che, in qualche modo, è stato portato qui sotto. E qui vi voglio anche far notare una chicca davvero fighissima. Il rift viene studiato da un macchinaglio che esce da questa cosa. E che cos'è questo? È l'entrata del bunker, a testa in giù. L'avevate notato? Non lo so. Però mi piace come tutto quanto torni. Ma ora vi faccio anche la grande domanda. Se noi spacchiamo da questa parte, arriviamo alla zona dove viene studiato il rift. È esattamente qui dietro. Ma ci sono altri tre corridoi. E questi corridoi, che tra l'altro puntano palesemente in direzioni delle case, non hanno un seguito. Si scontrano contro un muro. La stessa cosa vale anche per questo e per quell'altro. Se non ci credete, facciamo prima a far così. Generiamo la mega struttura qui dentro. Spacchiamo tutto. Questo è lo scavo del bunker messo a nudo in un attimo. Per questo motivo, mi è venuto un grande dubbio. E se questi tunnel non portassero da nessuna parte, perché in qualche modo non sono completi? Potrebbe essere, ragazzi, che più in là, questi tunnel, questi scavi, vengano in qualche modo uniti. E magari il tutto diventi un mega bunker unico, con dei corridoi che uniscono il tutto. Potrebbe essere un po' OP a livello di gameplay. Ma avrebbe senso e potrebbe anche spiegare il perché ci sono questi piccoli ciechi. Anche se da un certo punto di vista potrebbero essere così, semplicemente per dirti che idealmente c'è un passaggio, però tu non scavare e non sbirciare, perché in realtà non abbiamo fatto nulla. Non lo so, ragazzi. Ho voluto fare insieme a voi questo tour, ma secondo me questa zona ci riserverà delle sorprese. Non è un caso che nella tematica di questo pass ci sia il cacciatore, ci sia un richiamo strano della fiaba di Capucetto Rosso, e non credo che sia un caso che il bunker sia ancora lì, il bunker quello originale, e che abbiano creato tutti questi bunker. Ricordiamoci che l'isola volante passerà anche da qui per toccare quella runa. In ogni season c'è una zona secondaria, dove non c'è l'attenzione degli eventi, ma che in qualche modo ha un'importanza. Se dovessi scommettere su quale potrebbe essere questa volta, io vi direi Bosco Blaterante. Potrebbe avere un qualche ruolo di non so che genere, però ragazzi, dobbiamo aspettare e stare a vedere. Detto ciò, ragazzi, per questo video è tutto. Volevo essenzialmente fare un giro insieme a voi, controllare tutto, analizzare un attimino tutto, e iniziare a farci un'idea. Non abbiamo risposte, chiaramente. È davvero troppo presto, e non sappiamo che cosa potrebbe accadere. Ma in questa season c'è già una cosa abbastanza evidente. Quindi quell'isola volante si è iniziata a muovere molto presto, il che mi fa pensare che sarà una season movimentata, e probabilmente qualsiasi risposta arriverà molto prima del finale, forse anche per quanto riguarda il mistero di Bosco Blaterante. Io, ragazzi, ovviamente, se succederà qualcosa di diverso e di nuovo, vi terrò aggiornati. Per il momento vi saluto, e vi rimando a nuovi video sul canale. Quindi, ragazzi, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!